Mister Bonati, allora Guglielmo, abbiamo commentato prima con Torti un primo tempo assolutamente a panaggio del Delfino, poi nel secondo uscita l'Avezzano, quindi tutto sommato un pareggio giusto, magari non nel risultato, potrebbe uscire qualche gol, però va bene così. Sì, sono d'accordo, noi per caratteristiche, per Rosa, dobbiamo fare bene il primo tempo per indirizzare bene la partita e per provare a trovare dei vantaggi che poi si concretizzano e si mantengono per tutta la partita. Ovviamente più passa il tempo in determinate partite, dove il valore dell'avversario sulla carta è realmente migliore, c'è il rischio di perderle come ci è successo col Chieti e oggi se avessimo perso la fine, come al solito non ci sarebbe stato niente da dire, perché l'Avezzano aveva più qualità, però è anche vero che se il primo tempo concretizziamo un terzo, un quarto di quello che abbiamo fatto, forse ci troviamo avanti e forse per l'Avezzano non è così facile fare il secondo tempo in quella maniera. Sì, anche perché abbiamo contato nel primo tempo dieci calcio d'angolo, quindi insomma l'amore offensiva c'è stata, è mancata un po' di finalizzazione però comunque, anche se è stato bravo il portiere ma tutta la difesa dell'Avezzano. È mancata un po' di rifinitura, è mancata un po' di ultimo passaggio, è mancata un po' di stoccata, però è anche vero che il portiere ha fatto tante parate e veramente oggi è stato forse il miglior primo tempo dell'ultimo periodo, forse anche prima della prima fase perché rapportato al valore dell'avversario ovviamente abbiamo trovato tante giocate, loro sono venuti a giocare con due attaccanti, forse ci hanno dato un po' troppo spazio a metà campo con i centrocampisti nostri, qua il ritmo è alto, Thomas Silvestri oggi è stato stratosferico, Gobbo è stato bravissimo e quindi a metà campo abbiamo preso il sopravvento dall'inizio e poi da lì sono tutte cose che vengono di conseguenza. Sono contento per i ragazzi perché stanno crescendo, poi ogni tanto c'è un passo indietro, a Capistrello non dobbiamo fare passi indietro, sarà una partita più di eccellenza, come passo il termine, dove bisogna fare il risultato perché poi in eccellenza sono queste le partite che determinano i campionati, non quelle con l'Avezzano, l'Aquila o col Chiedi. Una nota di cronaca in chiusura, un applauso anche a Calore, insomma che si è contraddistinto con due parate, davvero interessanti, uno su blanco da 10 metri, forse qualcosina in meno, una risposta con i riflessi davvero interessante, parate che con l'eccellenza hanno poco a che fare. Sono d'accordo, scherzavo con i ragazzi di l'Avezzano che facevano riscaldamento, ma io ho detto noi siamo giovani, siamo gli esperti, quando le partite sono metà in metà rischiamo sempre di perderle e abbiamo bisogno di un portiere forte. Abbiamo sempre puntato su portieri forti come Falso, nel momento in cui Falso è venuto a mancare per qualche partita, per motivi lavorativi, abbiamo avuto la fortuna di avere un portiere altrettanto bravo e soprattutto anche molto umile, molto umile perché si è messo a disposizione, ci ha detto che è stato fortunato, che l'abbiamo chiamato, io non ci volevo credere quando me l'ha detto, perché per noi è una fortuna quella di avere Calore in porta per noi, quindi lo ringrazio, come ringrazio tutti quelli che sono venuti per due mesi, per avere dei costi alti per il Presidente, ma sostenibili per questi ultimi tre mesi, noi che non avevamo nessuna bellità di vincere, non abbiamo preso altri giocatori, ne abbiamo persi tanti per motivi più importanti del calcio e questi ragazzi come Vedovato, come Di Federico, come Calore, forse ne dimentico altri, in questo momento mi dispiace, Petrarulo, Petrarulo è stato un investimento però, perché magari vogliamo mantenerlo anche l'anno prossimo, io parlo con quei ragazzi che sono venuti senza rimborso o praticamente senza rimborso, che ci hanno permesso di avere dei cambi, delle situazioni per tenere botta, perché questa è l'ennesima partita in cui ce la giochiamo con loro, ce ne siamo giocati con tutte e tre, abbiamo fatto sei partite con queste squadre, abbiamo sempre fatto il massimo e anche sabato col Chieti mi è dispiaciuto sentire qualcosa di sbagliato, perché forse non ci si rende conto che il Defino Flaccoporto va sempre oltre le sue possibilità e non ha ancora perso 5-0 contro nessuno, che sarebbe anche naturale perdere 5-0 una volta col Chieti, L'Aquila, Vezzano e anche più di una volta, quindi questo ci tenevo a dirlo, perché se voi andate a guardare gli indicatori che abbiamo, anche abbiamo una differenza reti simile a quella dell'Angolana, che ha perso 3-4 partite meno di noi, quindi vuol dire che le nostre partite sono state tutte battagliate, sappiamo che ci manca qualcosa a punto di vista offensivo, l'abbiamo trovato, abbiamo perso Petrarulo e quindi siamo tornati al punto di partenza senza Molento e Sardella, sappiamo dove dobbiamo intervenire, sappiamo pure che però fare questi campionati per ogni anno per il Presidente è molto dura da solo, speriamo di potersi rinforzare in quei ruoli dove siamo carenti e magari oggi il primo tempo, anziché finire 0-0 può finire 2-3-0 per noi, perché secondo me se finalizzavamo il primo tempo c'erano almeno un paio di gol di scarto, come nel secondo tempo c'era tanto per l'Avezzano.